Ci sono spunti di riflessione, Mattarella saprà individuare il percorso migliore. Il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, riferisce al collo e l'esito dei due giorni di incontri. Evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il Presidente Mattarella saprà individuare il percorso migliore. Il Presidente della Repubblica prende tempo e si concede ancora un paio di giorni prima di decidere. Domenica si vota in Molise, il 29 in Friuli, Venezia-Giulia. Un incrocio che non aiuta a sbloccare lo stallo, anzi i toni sono da campagna elettorale. Berlusconi risponde con parole durissime al veto dei Cinque Stelle, un pericolo per il Paese. Parole che allontanano definitivamente la possibilità di un'intesa. E la risposta dei pentastellati è altrettanto dura. Attaccano il Cavaliere su presunti legami con la mafia. In riferimento alla condanna di oggi a 12 anni di carcere per l'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, per la cosiddetta trattativa Stato-Mafia. Nel mezzo dello scontro Forza Italia-Cinque Stelle-La Lega, con Salvini che si smarca da Berlusconi e ribadisce il suo no ad un'intesa con il Partito Democratico. Mi spiace se lo fanno i Cinque Stelle, con cui ostinatamente, testardamente, proverò fino in fondo per riconoscere il voto degli italiani a trovare un accordo sui fatti. Mi spiace ancora di più se lo fa un alleato, che fino a ieri mi chiede compattezza, coerenza e lealtà, cosa che la Lega ha sempre dimostrato, e che oggi passa la giornata a insultare qualche milione di italiani.